Buongiorno da Mari e benvenuti a questo nuovo giro di EFT giornaliero. La traccia che ho scelto oggi in realtà è una traccia utile la sera per addormentarsi bene, per rilassarsi e per svegliarsi bene al mattino. Tu se vuoi puoi anche ascoltarlo adesso, al massimo che può succedere è che ti rilassi un po'. Poi se ti sembra adatto a te il giro puoi riprovare questa sera picchiettandoti. Inizia a picchiettare il punto karate e come sempre spostati su un altro dei punti della sequenza quando senti che è arrivato il momento per te di spostarti e ripeti con me. Anche se è da un po' di tempo che arrivo a sera, come anche questa sera, con così tanto stress accumulato, così tanti pensieri da non riuscire a rilassarmi, tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Anche se da un po' di tempo faccio una gran fatica ad addormentarmi la sera e tante mattine mi sveglio con ancora della stanchezza, con ancora delle tensioni nel corpo, tutto questo può cambiare e io lascio che cambi. Anche se le ore di sonno mi sembra non bastino mai, vorrei tanto svegliarmi rilassata, pronta per una nuova giornata, ma non so come fare, non so come riuscirci. Tutto questo può cambiare e io intendo che cambi ora, intanto che mi mi osservo e mi picchietto e mi apro alle infinite possibilità, mi apro alla possibilità di rilassarmi ora e scelgo di farlo ispirando ed ispirando per qualche volta profondamente. inspiro la gioia di avere davanti a me tante ore buone per rilassarmi ed espiro la sensazione di benessere al solo pensiero di avere domani una nuova giornata da vivere. e rilascio ogni attaccamento emotivo a tutte le immagini che mi stanno passando ora nella mente. rilascio ogni attaccamento emotivo a tutte le tensioni accumulate durante questa giornata. rilascio ogni attaccamento emotivo all'abitudine che si è instaurata in questi ultimi tempi di dormire poco e male. rilascio ogni attaccamento emotivo e di svegliarmi e di svegliarmi con ancora il corpo stanco. E permetto a tutte le mie cellule e a tutti i miei sistemi di riposare questa notte. permetto a tutti i miei sistemi di rilassarsi. permetto loro di rilassarsi. permetto loro di rigenerarsi completamente e profondamente. e scelgo di svegliarmi domattina con il sorriso sulle labbra. e anche se a tutto questo io non ci credo veramente non credo di potermi addormentare rilassata non credo di poter rilasciare tutto lo stress con qualche semplice respiro recupero tutta l'energia che ho utilizzato per creare e per fare mia questa convinzione e la riporto nel qui e ora in armonia con il mio centro e anche se è un po' di tempo che le giornate mi sembrano tutte uguali faccio davvero fatica a credere che domani sarà diverso rilascio ogni attaccamento emotivo a questa fatica e mi apro alla possibilità di crederci a partire da adesso a partire da questa sera scelgo di accogliere una nuova notte di riposo una nuova notte rilassante e scelgo di svegliarmi domattina davvero con un grande sorriso sulle labbra davvero pronta a lasciarmi stupire da tutto il bello che la nuova giornata porterà con sé e armonizzo tutti i miei sistemi e tutte le mie cellule con i cambiamenti in corso armonizzo tutti i miei sistemi e tutte le mie cellule con questa nuova programmazione e grazie per aver picchiettato con me ti auguro una buona giornata e arrivederci a domani con un nuovo giro di FT giornaliero grazie per aver guardato il nostro corso